Nell'ambito del servizio di controllo del territorio, gli uomini del comando della Polizia Locale di Battipaglia, diretti dal colonnello Gerardo Iuliano, hanno intensificato i controlli tesi al rispetto delle normative nazionali e regionali. Nello specifico sono stati effettuati posti di controllo in vari punti della città, tesi a verificare il rispetto della normativa vigente in zona rossa riguardante gli spostamenti. Inoltre sono stati effettuati controlli alle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Queste attività hanno prodotto importanti risultati. Cinque attività verbalizzate e l'applicazione della relativa sanzione accessore della chiusura per cinque giorni. 32 verbali elevati per violazione del DCPM, mancato utilizzo della mascherina, spostamenti senza autocertificazione e violazione del divieto di consumazione antistante ed attività di barra. Altra attività è stata svolta congiuntamente con la Polizia di Stato, così come disposto dalle ordinanze del questore. I risultati sono direttamente comunicati dalla dirigente del commissariato di Battipaglia. L'attività continuerà per garantire il rispetto delle normative anti-covid, seppur con enorme difficoltà, dovuta alla carenza numerica di componenti del corpo di Polizia Locale. Nella vicina Eboli è stato sequestrato un lido a Campolongo, importante operazione di antibusivismo condotta dagli agenti di Polizia Municipale, Bolitana, guidata dal comandante Sigismondo Lettieri. I caschi bianchi all'interno dello stabilimento balneare hanno scoperto lavori in corso senza autorizzazione. Tra questi, quelli per realizzare un'area picnic ed una strada a pochi passi dalla spiaggia. Rilevate violazioni del vincolo paesaggistico, oltre alla struttura, è scattato il sequestro anche per i mezzi utilizzati per i lavori.